...di un genio, subito dopo la pubblicità. C'è un problema che fa soffrire milioni di persone in ogni parte del mondo, l'emorroidi. Per questo c'è preparazione H, un aiuto contro l'emorroidi, ora in formato monodose, pratico e igienico per l'uso fuori casa. Da Waipo, è un medicinale leggere attentamente il foglio illustrativo. Non solo Daewoo Lanos è bella, sicura, originale fuori e confortevole dentro. È anche piacevole da guidare. Daewoo Lanos, progettata intorno a te. Il gusto di Gran Pavesi. Dividilo con chi vuoi. Papà, papà, c'è un po' di caramelle. Nino, un altro crudino e tre caramelle. Subito, Colombo. E a chi le diamo queste caramelle? Alle mie figlie, la Nina, la Pinta e la Maria. Lei sì che è una santa, non come la madre. Perché la madre... Ha salvato le ancore! Dove sa con uno di Monte Carlo, pieno di palanche? Beh, sta bene. Beh, l'ansia sta bene. Ha trovato l'America. Rodino, l'analcolico biondo fa impazzire il mondo. Le nostre ossa perdono calcio, un rischio per noi donne nel periodo della menopausa, il rischio dell'osteoporosi. Intervenire si può con l'aiuto di Caltrate, l'integratore di calcio con vitamina D. Caltrate, perché è un corpo sano. Ha bisogno di ossa forti. Andrea? Andrea? Mi chiami? Francesca. Francesca? Francesca? Dove è? No. E tu amo Andrea? Non lo so, non ci capisco più niente. E tu mi piace. Bellezza o salute? Perché sempre un compromesso? Per un sorriso bello e sano, oggi c'è Azeta Synergy, il dentificio che pensa di essere uno spazzolino. Perché Azeta Synergy inizia a disgregare la placca al semplice contatto come se fosse uno spazzolino. Per darti i denti più bianchi e protetti. Per un sorriso bello e sano senza compromessi, nuovo Azeta Synergy. Per un sorriso bello. 206GT. Enfant terrible. Quando le tue difese naturali hanno bisogno di una mano, rafforzale con C Plus di BioCromaton. L'integratore di vitamina C in compresse masticabili dal buon sapore per proteggere il tuo benessere. C Plus di BioCromaton. Più vita all'energia che c'è in te. Da Menarini OTC in farmacia. Don Matteo, lo peccato. E' Nerino. Non ti preoccupare, ci penso io. Adesso non è l'amico che ti parla. Io sto cercando di toglierlo dalla strada. E' stato un anestesista. Mi ha sbagliato il mio figlio amore. Dovete credere, anche contro ogni speranza. Non salta fuori niente, non mi convince. Non si sa mai. Eccolo. Maria, che cos'è questo? Si inietta alla fine di ogni intervento chirurgico. Don Matteo. Venerdì 20.50. Rai 1. L'arma non la batte nessuno, però Don Matteo... Si. E' forte. Il 6 gennaio non perdetevi la finale di Carramba che fortuna. Scoprirete in diretta se sarà il vostro biglietto a vincere i 15 miliardi del primo premio della Lotteria Italia o uno dei molti altri premi miliardari. L'appuntamento con la fortuna è giovedì 6 gennaio alle 20.40 su Rai 1. Prima di continuare il nostro viaggio con Leonardo e seguire...